Gairoli, Gran Premio di Francia, il braccio di ferro con Polella hai vinto tu? Ma si, diciamo anche perché lui aveva una brutta partenza nella seconda manche, però devo dire che la prima manche abbiamo fatto una bella battaglia, con lui è sempre bello combattere, perché è un ragazzo molto intelligente, poi sa anche dove passare o no, dove rischiare o no, quindi è stato bello, poi davanti al pubblico di casa sua, sicuramente era carichissimo, il pubblico lo spingeva, andava molto bene, ho cercato di tornare su di lui negli ultimi minuti di gara, però con qualche doppiato di mezzo non sono riuscito a ravvicinarmi quel tanto che bastava per cercare di provare a passare, però contento in generale per il weekend, anche perché la seconda manche è andata benissimo, sono partito in testa e dopo 3-4 giri avevo un bel gap e sono riuscito a mantenere la fine. Sì, è una bella soddisfazione vincere nella patria del secondo in classifica, soprattutto prima del GP d'Italia. Sì, sicuramente contento perché il GP d'Italia è importante per noi, sicuramente tanta gente verrà, quindi arrivare lì con una vittoria del GP precedente, sicuramente con Francia, è stato bello. Speriamo vengono in tanti a tipare gli italiani perché sicuramente verrà ancora una bella gara. Perfetto, grazie Antonio. Ciao.